Ed eccoci qua e bentornati a Incontro con l'Artista ed oggi siamo qua con Maria Luisa Carretto, regista. Ciao Maria Luisa e grazie di essere qua con noi. Grazie a voi per avermi invitata. Volentierissimo e abbiamo veramente tante cose da dire su di te. Allora io partirei con il pipistrello che voi non sapete ancora cos'è perché andrà in onda prossimamente su Clivo. Cos'è il pipistrello? Un cortometraggio? Sì ed è un falso documentario. Voi lo avete visto e avete potuto credo apprezzare proprio la bellezza di questo piccolo, piccola opera in pellicola, pellicola super 8, girata in un certo modo perché possa sembrare girata nel 1923, dove si svolge questo, diciamo, quest'opera. Ed è in bianco e nero. Praticamente la protagonista, che è una giovane donna, viene lasciata su quest'isola, su un'isola, da niente po' di meno che Hitler in persona, quando era giovanissimo, perché abbiamo pensato con, diciamo, la sceneggiatrice che l'idea poteva essere quella di un Hitler come primo cameraman, come, insomma, come sua forma d'arte, perché lui si dilettava comunque nel cinema e probabilmente aveva la passione del cinema perché aveva visto anche alcuni film delle avanguardie tedesche. E quindi la lascia su quest'isola e la lascia e filma la sua morte. Naturalmente è un film abbastanza tragico, però diciamo che secondo noi la bellezza dei luoghi dove si svolge è... Dove è stato girato il Pipistrello? È stato girato in più luoghi, uno è il lago Trasimeno, poi il lago di San Polo vicino a Firenze e poi è stato girato in un parco, in un parco dove naturalmente non si può accedere ed è vicino a Firenze, dove ci sono dei fazzi ruderi, un palco della fine dell'Ottocento e allora abbiamo pensato di girarlo lì. E queste sono praticamente le location dove si svolge, quindi diversi punti, diversi... Per raccontare questa storia. Muto. È muto, sì, perché appunto nel 23 il cinema era ancora muto. E io amo moltissimo il cinema muto perché è il cinema per eccellenza, l'immagine per eccellenza e l'espressività appunto degli attori doveva essere al massimo perché non potevano esprimersi a parole. Dove c'è veramente tanto da lavorare, no? Sì. Perché lì con l'attore devi fare un lavoro ancora, ancora più profondo. Sì, e per fortuna la protagonista era molto brava e quindi si è calata nel personaggio ed è anche la scrittrice appunto che ha avuto l'idea fondamentale che è quella di Hitler che filma la morte di questa donna. In realtà io avrei voluto fare un'altra cosa ed era un film muto, perduto, di Karl Theodor Dreyer. Però alla fine costava troppo e andava troppo per le lunghe la produzione perché io faccio anche altro nella vita, nel senso che lavoro sempre nel cinema, però porto il cinema nelle carceri per la fondazione Sistema Toscana ormai da vent'anni e faccio anche documentari, cortometraggi e quindi diciamo che non avevo allora almeno tutto questo tempo da dedicarmi, è stato un film che diciamo ho girato in più anni anche, in pellicola Super 8. Benissimo, quindi una grande soddisfazione e un grande lavoro, quindi mi è durato tanto. Un'altra cosa ti volevo chiedere, che approccio hai con l'attore, la regista? Ma da regista appunto ho un approccio muto. Muto? Ok. No, nel senso che per me l'attore deve essere molto espressivo e esprimere molto le sue sensazioni senza la parola. Quindi questa è la prima cosa che ti aiuta a scegliere un attore? Sì, quindi una grande espressività negli occhi e nei gesti, ovviamente cinematografica perché poi alla fine non è teatro il cinema, quindi basta quel piccolo gesto, quella piccola luce negli occhi che gli dà quella caratteristica e anche al cinema si può vedere, si percepisce il piccolo cambiamento anche della fisionomia dell'attore. E la massima soddisfazione ce l'ho avuta appunto quando ho girato il mio lungometraggio che è La Scomparsa e l'ho girato in più anni anche quello perché è un lungometraggio sostenuto solo da uno sponsor che è un piccolo sponsor, Oliviero Calzature. Ok, grazie Oliviero. San Piero Assieve e quindi devo dire che poi tutto lo sforzo l'ho fatto da sola, con amici, professionisti che mi hanno supportato e mi hanno veramente aiutata fino in fondo. Ecco, La Scomparsa, visto che l'abbiamo... di cosa si parla? La Scomparsa è un film, praticamente un film poetico che... La Scomparsa è un film poetico perché è un viaggio orfico che si ispira a Dino Campana che è questo grande nostro poeta, è nato a Marradi e quindi toscano per eccellenza, morto giovane purtroppo in un ex ospedale psichiatrico. Ecco, diciamo che il personaggio, l'attore parte da Livorno e fa tutto un percorso che è non soltanto il percorso suo di viaggio ma incontra personaggi che poi gli faranno capire anche qual è la natura dell'amore che lui, diciamo, ha percepito, che ha vissuto e che purtroppo ha anche perduto. Ok, quindi c'è comunque un percorso come se fosse un po' anche un percorso di vita, no? Sì, sì. È quello che noi incontriamo. È un viaggio. Un viaggio. Orfico perché si ispira comunque ai canti orfici e Orfeo è il dio della poesia che purtroppo, diciamo, andando negli inferi e cercando la sua euridice, ha perduto perché nel viaggio di ritorno si è voltato, l'ha guardata e lei è scomparsa, purtroppo è tornata negli inferi e quindi lui ha perso la sua grande mamma. È da lì che nasce la scomparsa? Sì, è da lì. In realtà volevo fare un film diverso che era un film di un padre che andava a ricercare il figlio. Poi durante le location andavo a cercare i luoghi dove poter ambientare il mio film. Volevo ambientarlo comunque su un treno perché il treno comunque... Rappresentava il viaggio. Rappresenta il viaggio e poi il treno è un mio pallino, ecco. Il treno per me è un essere, ora lo personifico perché io ho l'abitudine di personificare gli oggetti, le cose, gli animali. Diventa un tuo attore o comunque uno strumento di comunicazione. È comunicazione e poi ti porta per strade lontane e ti fa fare questi viaggi straordinari anche con la fantasia. Poi incontri personaggi via via. Sì, perché in treno effettivamente no? Anche se magari la persona che ha meno da esprimere non riesce però osserva, vede situazioni. Effettivamente là dentro ci sta tanto, tante vite, tante esperienze e tanti modi diversi dalla seduta. Per me è bellissimo. Poi diciamo che il treno che parte da Firenze e va a Marradi, va anche oltre, arriva a Rimini. È un vecchio trenino a gasolio e quindi ha la caratteristica del vecchio, questi sedili verdolini, questi grandi finestroni che non si possono più aprire, però, o forse sono nati così, però sono questi grandi finestroni e ti culla e ti fa vedere anche personaggi, cose. Tutto ciò che c'è fuori e che c'è dentro. Sì. Avevo iniziato appunto su questo treno che passava per la Faentina, ho fatto il sopralluogo e mi dovevo fermare a Vaglia perché già un'altra volta avevo fatto il percorso per fermarmi, no, non a Vaglia ma a Ronta. Ero già stata a Ronta. E invece mi sono fermata a Marradi. A Marradi sono andata alla casa di Dino Campana, dove è nato Dino Campana e allora lì si è modificato tutto il mio assetto della storia e ho cominciato a scrivere. Quindi nella ricerca della location. Sì. Ho cominciato a scrivere e ho pensato a questo viaggio orfico che il mio protagonista fa durante il film. Quindi sono state anche le location aiutarti a portarti poi alla storia. Certo. Perché per me il cinema è un cinema in esterni, non in interni. Perché il cinema non deve assomigliare secondo me al teatro, perché il teatro è teatro di parola, è tutto un altro mondo. mondo. Quindi per me la parola è fondamentale ma non essenziale. Deve parlare l'immagine, deve parlare il personaggio. Certo con la parola si aiuta. L'immagine però deve essere un'immagine bella che io vado a cercare. Bella oppure maledetta oppure strana, particolare, ma comunque è l'immagine diciamo. Sono come quadri viventi. È il cinema. Le inquadrature, sì. È il cinema. È il cinema. Infatti. Poi ci sono state tutte queste evoluzioni, siamo arrivati ad oggi. Anche la scomparsa è pellicola e digitale, sì. Perché io difficilmente riesco a staccarmi dalla pellicola. Sempre muto. No, no. È sonoro. È sonoro. C'è la parola. Poi c'è la partecipazione straordinaria anche di Carlo Monni e Giorgio Ariani, che purtroppo non ci sono più, però hanno dato un grande contributo. Potrei parlare per ore di loro due. Carlo Monni veramente durante le riprese fu veramente eccezionale perché gli dissi Carlo prima cosa lo incontrai, fu bellissimo perché quando gli parlai di telefonare gli dissi scusa Carlo vorresti fare questa parte. Il mio figlio mi diceva vieni parlamene, sai dove mi trovo? Dico posso immaginarlo. Bene, vieni nel mio ufficio alle cascine. E allora andai a trovarlo appunto alle cascine e lui stava parlando con una signora che faceva il suo lavoro e intratteneva una conversazione piuttosto animata. Ma fu buffissimo perché io arrivai e ero completamente bagnata perché era un giorno di pioggia e lui era lì e mi aspettava. Vieni a dimmi un pochino di che si tratta. E allora gli parlai. Già lui recitava i canti orfici. Famosissimo Carlo per questa impersonificazione con Dino Campana. Quindi disse sì sì sì. E allora la sua location è all'IoT, all'Istituto Ortopedico Toscano, in questo ospedale. Infatti ci dettero per un giorno l'ospedale perché doveva trovarsi lì appunto il luogo dove Dino arrivava, dove questo mio personaggio. Che ruolo aveva Carlo? Il medico. Cioè è tutta un'altra cosa. Doveva sì fare un personaggio tragico e fu buffissimo. E gli dissi guarda Carlo allora non metterti i sandali perché lui è stato, inverno, aveva i sandali e portava i sandali e allora arrivò con un paio di scarpe chiuse. Ok. Vedi cosa fanno fare i registi e l'attore. Davvero, davvero, davvero. Insomma una bellissima esperienza. Bellissima esperienza sì. Effettivamente rigirerei di nuovo. Il tutto. Il tutto. Perché sono anche gli attori, comunque chi mi ha dato una mano, cioè tutta la parte tecnica, sono stati veramente... Una bellissima esperienza. Vorrei parlare, io nelle mie interviste e poi un po' anche il lavoro che faccio, no? Sono sempre molto curiosa e sono curiosa di capire come nasce il personaggio di Maria Luisa Carretto. E quindi quando nasce questa passione? Come si evolve, insomma? Ma io ho iniziato fin da piccolissima appunto a vedere il cinema. E quindi il cinema per me era... Era comunque un... Un pane quotidiano. Un fratello, diciamo. Un fratello. Bello. Un fratello, un essere che ho sempre amato. Sono sempre adatta molto al cinema. Tipo come minimo due volte la settimana, tre volte la settimana. Anche i miei genitori lo amavano moltissimo. Mi hanno sempre portato al cinema, sempre. E io sono abituata a vedere le storie. La cosa curiosa era che arrivavo sempre... Noi non avevamo l'abitudine di entrare all'inizio del film. Non c'erano gli orari. Cioè noi si andava al cinema e si entrava, nonostante tutto, a metà film magari. Quindi entravi, dovevi ricostruire la storia, poi vedevi l'inizio, no? Era buffissimo. Poi potevi rimanere e rivedere il tutto, no? E diciamo che ogni... Parti fondamentali della mia vita sono state vissute al cinema. Sembra strano, ma è così. Cioè cose veramente straordinarie, come quella del... Babbo ci portò a vedere e ci lasciò al cinema. Io, un'amica e mio fratello. Avevamo, penso, otto anni. E nel cinema del quartiere, che era il Colonna, che da poco è chiuso perché non si è adeguato al digitale. Anche questo è un peccato veramente. e proiettavano Totò, Pepe e Lemucò. Al solito Babbo si dimenticò di venirci a prendere perché Babbo era un uomo impegnatissimo col lavoro e quindi noi vedemmo il film una volta, due volte. Alla terza volta arrivò Babbo perché tornò a casa e la mamma gli disse Ma Mario, ma i bambini! E lui, oh Dio! Le ho lasciate al cinema! Quindi, per la terza volta noi stavamo vedendo Pepe e Lemucò, davvero. Questa è una... Magari non volevate neppure venire via perché vi so stavate... No, sì, ci piaceva da morire. Era bellissimo. Ed è strano perché non so quando sarà stato girato Pepe e Lemucò, ma penso negli anni cinquanta. Quindi dopo dieci, quindici anni circolava lo stesso. Certo. I film erano in continuo... Diciamo, giravano comunque, non venivano ritirati dopo i consueti cinque anni. Insomma, penso che i cinema potessero avere anche la possibilità di proiettare dei film magari di vent'anni prima. Perché io ho visto anche... A qualcuno piace caldo al cinema e l'ho visto, credo, negli anni... Dopo l'ottanta. Certo. Ecco. E il percorso di Maria Luisa in tutto questo? Cioè ha scoperto da piccolissima che il cinema era a casa sua. E poi farlo è stato più duro perché sono una donna. Poi in casa mia non è che gli artisti erano visti di grande... Diciamo, per loro non era un lavoro. Non era un lavoro. Non era un lavoro. No, no, no. Infatti tuttora Babbo è scomparso da poco, purtroppo. Però mi chiedeva, ma che lavoro fai? Quindi questo è un grande ostacolo, perché una persona che non è appoggiata in un certo senso dalla famiglia sembri strana, no? Io sono sempre... Ti vedono come quella strana della famiglia. Sì, sì. Però tu hai... Io la vedo come un'arte, il cinema. Non è intrattenimento per me. Certo. Cioè io parlo comunque in termini, per voler dire qualcosa di veramente importante e fondamentale. La vita, i sentimenti... Non mi interessa il cinema superficiale, ecco, il cine panettone. Non sono mai... Purtroppo non sono... Lo dico qua, ma... Non che me ne vergogni, ma... O forse ne sono anche un po' orgogliosa. Non ho mai visto un cine panettone. Ok, però nonostante, cioè, questi osteggiamenti, no? A parte della famiglia, sei andata avanti... Sì, perché nel 91 ho vinto un concorso europeo per sceleggiature. Lì volevo arrivare. Lì volevo arrivare. E quindi a quel punto, a quel punto sono partita. Perché già due anni prima avevo tentato di andare a Roma, sono andata al centro sperimentale. Ho cercato di compilare, perché allora si compilavano a mano direttamente lì, le domande per il centro sperimentale. E poi, invece, purtroppo, invece di spedirla, ho incontrato l'amore della mia vita, che mi ha fatto cambiare idea a quel punto. Dico purtroppo perché le grandi passioni sono più... Non dico più importanti dei grandi amori, però hanno una valenza diversa. Non ci si dovrebbe far coinvolgere in modo tale da rinunciare alle proprie aspettative, perché poi si soffre. E infatti io ho sofferto moltissimo, perché poi non sono stata capita nemmeno da chi ho amato moltissimo, purtroppo. E quindi... Quindi hai fatto una rinuncia per amore? Per amore, però... Poi ne ho fatto un'altra, perché mi avevano chiesto di restare alla televisione portoghese. Dopo questa borsa di studio, ero diventata l'artista europeo, eccetera, eccetera. Ero quasi alle stelle, però purtroppo a quel punto ho fatto un'altra scelta. Ho detto no, voglio restare a Firenze, perché Firenze deve essere il mio punto di riferimento. Poi però in realtà ho vissuto la mia vita, ho avuto un figlio con lui, però poi dopo purtroppo... Quindi sono passati dei treni che hai lasciato passare e non hai preso. Sì. Eh sì. Però comunque si prendono lo stesso. E infatti... Per cui... Non è mai tardi fondamentalmente, c'è questo, no? Poi di forza che se abbiamo qualcosa dentro, alla fine, in un modo o in un altro, ci arriviamo. La scomparsa, l'ho presentato a maggio alla compagnia e il cinema era pienissimo. Si sono congratulati tutti per questo film, che qualcuno mi ha detto addirittura che sembra un film come quelli di un tempo, cioè degli anni 80, 90. Ma non perché sia datato, perché dice che hanno ritrovato quella vitalità e quel sapore che ora dice che non ci sia più, non è vero. Il cinema è comunque anche oggi straordinario, ci sono degli autori straordinari e purtroppo è visto poco al cinema, perché le persone tendono a vederlo anche, non soltanto in DVD, perché ora è decaduto anche questo, su piattaforme digitali, di cui non voglio far nome, però, ecco, deturpano il cinema perché il cinema andrebbe visto su grande schermo. Quindi il tuo invito è anche quello, andare al cinema. Nel senso, veramente, cioè io quando faccio le inquadrature le faccio per il grande schermo. Infatti il personaggio è in campo lungo, lunghissimo, o a volte in figura intera, invece i piani televisivi purtroppo sono scarsi, perché... Questo è un invito, è un invito che diamo da parte di Maria Luisa, ma anche da parte mia, è andata al cinema e presto su Clivo vedremo sia il pipistrello, sia il volo, chissà. E il trailer della scomparsa. E il trailer della scomparsa. Che è candidato, praticamente è stato, è semifinalista all'Hollywood Screen Festival, quindi Hollywood. Hollywood. Io, Maria Luisa, ti ringrazio veramente di essere venuta qua a Clivo a parlarci della tua esperienza, del tuo lavoro, di questo grande amore per questo mondo. Ecco, l'ultima cosa, proprio la faccio a tutti questa domanda, ormai sarò venuto a noi a qualcuno, però mi piace che anche tu, come gli altri, diano un messaggio a chi vuole entrare nel mondo del cinema. Magari ci sono... Cioè, c'è qualcuno, no? Là che vuole fare il regista, però non sa che pesci prendere o che treno prendere. Beh, innanzitutto bisogna tradurre le parole in immagini, nel senso che bisogna ragionare non come uno scrittore scrivere parole, soltanto per il gusto di scrivere comunque delle frasi o delle belle parole, metterle insieme, ma avere l'idea cinematografica, cioè dell'immagine che si va a filmare. E poi filmare, nel senso girare anche con i mezzi, con un telefonino, vedere qual è il risultato, girare delle storie, comunque c'è bisogno di passione, di poesia, di grandi idee e quindi io esorto i ragazzi a mettersi a fare e dare un occhio fondamentale al cinema del passato perché i miei grandi ispiratori, come ho detto, Breyer, Wells, Renoir, Fellini, Kubrick, Bergman, Ingmar Bergman. Quindi guardare al passato per poter scrivere il futuro e il presente. Il scopo è fondamentale. Grazie mille a Maria Luisa di essere stata qua con noi. Grazie a voi. E vi aspettiamo alla prossima puntata, Incontro con l'Artista. Grazie a tutti. Grazie a tutti.